Blogosfera è a Casa Cioc Licensing Forum 2009, siamo in compagnia di Roberto Lanzi, President di Sario Global Consumer Product. Lunghissimo Roberto, ciao! Una meraviglia, ciao! Una meraviglia, hai detto bene! Roberto, innanzitutto ti chiediamo le tue prime impressioni su questa edizione di Casa Cioc. Molto molto bello, il più bello evento in Italia che abbia mai visto, è la prima volta che lo vedo, ci sono un sacco di licenziatari, un sacco di licenso, bello, organizzato molto bene. Vabbè, Sario neanche a dirlo è il papà di Hello Kitty, ci racconti un po' le novità che ci attendono anche per poi tutte le fans della gattina? Ma guarda, arrivo adesso dal giro del mondo, noi stiamo festeggiando il trentacinquesimo. Abbiamo fatto feste da Los Angeles a Barcellona, è stato bellissimo, abbiamo avuto un sacco di fan da Paris Hilton a Lady Gaga a chi più ne ha più ne metta. Momento straordinario, anche se nel mondo, come ben sai, il momento non è straordinario dal punto di vista economico, finanziario. Il lavoro non è uno spettacolo, è così il lavoro in un clima molto molto teso. Infatti la nostra domanda era proprio sulla crisi economica. Come sta reagendo il vostro settore di mercato, in particolare Italia, anche se vuoi darci uno sguardo poi a livello mondo? Tu sai che noi non abbiamo un settore, lavoriamo dai diamanti ai lecca lecca. Il problema sta diventando, secondo me negli ultimi tre anni abbiamo avuto una crisi straordinaria che ha toccato banche, borse, finanza, case automobilistiche, ma non noi piccoli mortali. Secondo me in questo momento sta toccando i piccoli, è arrivato, probabilmente è già un momento dove i grandi si stanno rigenerando e noi ne stiamo subendo la coda. avremo dei problemi, ci sono dei problemi nelle aziende di cash flow, le banche non stanno dando soldi a nessuno. Il momento, secondo me, del 2010 sarà molto molto duro. Roberto, grazie e a presto allora. Un mio piacere, ciao.